Noi abbiamo già realizzato uno strumento a servizio dei piccoli comuni che è la piattaforma FAST. Questo strumento consente, diciamo, aiuta, genera quello che in inglese si chiama augmentation, ossia aiuta i dipendenti dei piccoli comuni a realizzare documenti amministrativi e li supporta sia in termini di volume che di conoscenza specifica della tematica. Però pensiamo che occorra fare molto di più. Occorre pensare e ragionare non tanto in termini di sostituzione di attività che oggi vengono svolte a livello umano, perché queste capiteranno in modo, secondo me, naturale, ma capire come estendere la catena di valore dei servizi affinché cittadini e imprese abbiano maggiore soddisfazione dal nostro operato. In particolare, se cito le imprese, noi dobbiamo lavorare sul fatto che loro siano incentivati ad aprire le attività all'interno del nostro paese e non andare in altri paesi. L'intelligenza artificiale in questo può aiutare, perché può fare quel salto che oggi la digitalizzazione tradizionale non ci aiuta a fare. Allora, in cosa noi vogliamo essere protagonisti? Soprattutto nella formazione. Pensiamo che sia importante dare innanzitutto una formazione di base affinché tutti possano salire un primo scalino. Perché questo? Perché la consapevolezza è fondamentale nel dare la libertà di contribuire nel modo più opportuno al cambiamento. Abbiamo realizzato dei webinar che abbiamo messo a disposizione in rete e saranno presto a disposizione per tutta la pubblica amministrazione. Sono webinar organizzati con una logica anche comunicativa affinché le persone diano la giusta attenzione e non hanno grandi barriere di tipo tecnico. È una fonte d'orgoglio perché l'abbiamo realizzato internamente e l'abbiamo realizzato velocemente affinché tutti possano comprendere una tematica di cui si parla veramente tantissimo.